Si chiamava Ron Shand, aveva solo 16 anni di età e purtroppo è stato ammazzato da un coetaneo di 15 anni il quale è stato arrestato dalla polizia dopo aver impugnato questo giovane ragazzo. Dopo ben 28 giorni di tempo di processo, imputato quindi è stato condannato a scontare 13 anni di pena detentiva in un Young Offenders Institute, un istituto per giovani che vengono ammazzati o, diciamo così, offesi. Ron era giovane, era meraviglioso, veniva chiamato simpaticamente Fred, è stato accoltellato a Kingstorp nella parte di Norepton della Gran Bretagna. Era il 22 marzo passato, c'è stata una discussione accesa tra l'assassino e i mici che hanno quindi deciso di togliergli la vita. Tutto è stato pianificato per il segno e per il dettaglio e alla fine la morte è arrivata. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termine qua, Ron riposi in pace.